Due morti in soli tre giorni a colpi d'arma da fuoco esplosi in strada da Pantano a ridosso di Borgata Finocchio fino a Corviale. Roma torna a essere violenta anche sul litorale dove un 17enne è stato ferito ieri pomeriggio dopo essere stato raggiunto da un proiettile in strada ad Ansio. Un ragazzo avrebbe riferito di non essere coinvolto in vicende di spaccio di droga ma d'aver già visto in passato chi l'ha ferito. Il giovane nato a Roma dai genitori di Lagos è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Il proiettile lo ha colpito al gluteo da estro. In serata è stato arrestato un ventenne. Gli omicidi e gli agguati di queste ore fanno riaccendere i riflettori sulle periferie calde della città. Al centro di una riunione del comitato provinciale per l'ordine della sicurezza in programma giovedì. Domani in prefettura non sarebbero state disposte al momento misure specifiche ma la situazione è attentamente monitorata.